Grazie mille, grazie mille, buonasera di nuovo, non posso che confrontare un Alessandro, il Legare 64 è un prodotto che ha tante novità da raccontare, sono talmente tante che abbiamo dovuto raccontare una foglia per le quattro categorie concertuali, le quattro e le macchine. Prima però di lanciarmi in questo racconto, non posso non dedicare qualche parola alla volta che è stato fatto per migliorare integralmente l'hardware di questo prodotto, che ancora una volta, è qualcosa che siamo già abituati, rappresenta lo stato dell'arte e della tecnologia applicato a due macchine. Con il Legare 64 siamo riusciti a migliorare ogni singolo aspetto del prodotto per renderlo qualcosa che può arricchire e certificare la nostra vita quotidiana. Le dimensioni dello chassis non cambiano rispetto al tuo predecessore, ma lo schermo diventa da 5 pollici ed è uno schermo Super AMOLED Full HD, quindi uno schermo che ha una descrizione di macchine e di colori mai distezionale. Sarà impossibile distinguere i singoli pixel dello schermo all'occhio. Anche il dettaglio è stato impreziosito che il Galaxy S4 al momento del lancio sarà disponibile in due colorazioni, Black Mist e White Frost. Poi, teniamo un vero e proprio paradosso. Nonostante lo spessore sia stato ridotto a meno di 8 mm, la capacità della batteria è stata aumentata di più del 20%. La versione del Galaxy S4, che nascerebbe in Italia, supporterà la rete 4C e LTE di ultima generazione ed è dotata di ben 8 sensori che ne rendono di fatto lo smartphone più intelligente e performante mai possibile. Queste caratteristiche subiscono gli appassionati di tecnologia, e ripeto, questo è qualcosa che il Samsung ha abituato, ma l'obiettivo di questo prodotto, come è già stato detto, è quello di discutire tutti noi, anche i normali consumatori. Pensiamo di raggiungere questo scopo attraverso una serie di funzioni estremamente innovative. La prima categoria di funzioni è tirata al divertimento. Tutti noi oggi utilizziamo lo smartphone per raccogliere i momenti più belli e importanti della nostra vita, e questa esperienza con l'S4 sarà ancora più semplice da pagare. Potremmo aggiungere alle nostre foto fino a 9 secondi di audio e conservare il rumore del mare o il bacino di un bambino. Oppure potremmo divertirci a realizzare un'istantanea animata, creando in pochi secondi dei divertenti effetti. La doppia fotocamera consente al fotografo di aggiungersi agli scatti o ai video con dei curiosi effetti personalizzati, anche qui il limite è dettato solo dalla propria fantasia. E con la funzione album di foto potremmo concorre automaticamente un album fotografico. Potremmo aggiungere diversi effetti grafici, modificare l'ordine delle foto o inserire dei vari commenti e quindi creare un piccolo album dei ricordi. Se ne avremo voglia potremmo anche ordinarne una coppia fisica che può essere recapitata direttamente a casa nostra. Infine con il launch del Galaxy S4 abbiamo sviluppato una nuova interfaccia per il Samsung Hub e quindi per poter avere accesso a libri, musica e contenuti in modo ancora più efficace. Con il Galaxy S4 la creazione e la produzione dei contenuti non è mai stata così divertente. E questo ci porta alla seconda categoria di funzioni in cui la parla di ordine condivisione. Group Play è una funzione che mi permette di condividere qualsiasi contenuto, un brano musicale dei documenti delle immagini con altri Galaxy S4 collegati senza bisogno di copertura 3G o Wi-Fi. Potrò ricordare un brano musicale e creare il minimo effetto video cassa multipla oppure fare giocare in multiplayer e questo sarà particolarmente appagato. Un'altra funzione chat on è la doppia videochiamata attraverso cui potrò mostrare alla persona che sto videochiamando tutto ciò che riprendo tramite la fotocamera posteriore oppure condividere lo schermo del mio telefono o qualsiasi altro file. E grazie al S-Translator anche le barriere linguistiche riconobatture. Mi basterà dettare o scrivere una frase che verrà automaticamente tradotta in un'altra lingua. Sono qui presenti migliaia di frasi preimpostate in una serie di lingue categorizzate per argomenti con cui sarà possibile distrecarsi in qualsiasi situazione. Il Galaxy S4 sarà quindi il nostro compagno di vita ad ogni latitudine. Il terzo gruppo di funzioni è ispirando alla quotidianità. Potremo interagire con il Galaxy S4 in modi nuovi, addirittura senza toccare lo schermo. Con un gesto potremo rispondere a una chiamata se abbiamo le mani impegnate oppure sporche. Oppure potremo scorrere le foto della galleria o passare a un branco al branco successivo del nostro archivio finale senza toccare lo schermo. Avvicinando il titolo allo schermo potrò avere un'apprendita del video che sto quadrando oppure delle e-mail che mi sono state mandate. E allo stesso tempo questa maggiore sensibilità lo schermo mi permette di utilizzare con qualsiasi quadro. Il Galaxy S4 riconosce il nostro quadro. Se sto guardando il video e vi scopro lo sguardo, il video sarà messo in pausa automaticamente per poi riprendere quando riprenderò a guardare lo schermo. E con un watch on questo smartphone diventa un telecomando di nuova generazione per pilotare la tv e accedere a una serie di contenuti anche ricercabili per secondo i nostri interessi. Potrò anche pilotare altri dispositivi di casa per finire il condizionatore. E in questo modo avrò a mia disposizione un vero e proprio telecomando della mia vita digitale. L'ultimo gruppo di funzioni è ispirato al benessere. Tramite S Health il Galaxy S4 si trasforma in uno strumento per tenere sotto controllo la nostra salute, collegandola ai nostri gesti quotidiani. Potremmo prendere traccia del nostro peso, delle calorie assimilate con l'alimentazione, oppure misurare l'impatto delle attività fisiche, dalle semplici distanze percorsi a piedi ad attività fisica più intensa. Indossando uno speciale braccialetto è possibile avere ancora tenere traccia della qualità del nostro sogno. E tutto ciò viene sintetizzato, di tutto ciò viene tenuto traccia e quindi potremo avere a nostra disposizione una sorta di personal trainer virtuale che ci accompagnerà nel mantenimento della nostra forma fisica, ma per un'esplosione, come nel mio caso, di una forma fisica ancora migliore. A completare tutto abbiamo creato una serie di accessori originali ed esclusivi, a quattro cui ognuno di noi potrà personalizzare il proprio Galaxy S4 e renderne unico anche il look. Sul prodotto non dico altro, vi racconto invece molto velocemente le tante del suo ingresso nel mercato italiano. Da domattina sarà possibile trovare e provare il Galaxy S4 in quel tempo high-store che abbiamo creato per l'occasione e che saranno aperti in 9 da maggio. Uno a Milano, in via Torino, e uno a Roma in via Borgogliona. La data di inizio ufficiale della vendita è il 27 aprile del 10 in mattina. Per chi visiterà uno dei nostri tempore di storia prevista nella prima ora una sorpresa speciale, ma da quel momento il prodotto sarà disponibile nei migliori punti vendita dei nostri partner, operatori e grado di distribuzione specializzata. Devo l'ultima parola di importanza di comprare un prodotto Garanzia Italia, riconoscibile tramite uno speciale bullino Exclusive. Questi prodotti italiani permettono ai consumatori di accedere al ZAD Exclusive, attraverso cui hanno una serie di servizi dedicati. Chi acquisterà il prodotto nel primo mese avrà diritto a una copertura casco per i dati accidentali e il burro governato, e tutti avranno diritto un servizio assistenza personalizzato che per la prima volta prevederà anche l'avventino domicilio del prodotto da sistemare, e poi il successivo recapito. Questo è tanto e io sono assolutamente convinto che in queste premesse saranno tantissimi consumatori italiani che già dai primi giorni sceglieranno questo prodotto, il Galaxy S4, come loro compagno di vita. Grazie.